Vettorina, casco, manubrio, i social sono pieni di video, anche belli, ma sempre dallo stesso punto di ripresa, alla fine un po' noioso. Invece oggi vorremmo provare qualcosa di diverso, vi servirà un semplice accessorio del quale vi lascio il link qui in descrizione e seguitici per realizzare dei video spettacolari anche voi con le vostre amici e la vostra action cam. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Mi piacerebbe trovare dei punti di vista e degli angoli di ripresa interessanti? Beh, seguitici, mettete like e seguite il nostro canale per i nostri aggiornamenti!